E' un'altra parte di un'altra parte. no e si toccano si è morto che ansia è però realistico beh no, non è molto realistico, mi tocchi il cappello e muori ah, un'altra cosa? ci sono i continui limitati hai visto però? si, che l'ho colpito l'eco prova non è che c'è qualche effetto specialico? ah, fa il terremoto ah, vado? ah ecco, quelli piccoli riempiono, quello è il mana si, 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 quelli piccoli riempiono il mana ecco immagino no occhio no posso più più ma ah beh questo è un esempio che ci conviene non fare continuo si, infatti perché ne abbiamo tipo tre poi primo livello giù cazzo c'era incoglionito cronico ma no ma no ma è un bug ma no, inganna perché si dice che deve essere più in larga la fottuta ma dai ah, cazzo no ah dai merda attento quando scende a questo becca a farmi così perché prima non è che la becca non è potuto nooo porco dio ma dai che palle è punitivo sto gioco non so, non lo farei che cazzo ma che cazzo non lo farei? di niente eh no perché si era visto era spuntato però ah qua dovrei manere dietro dovevi saltare direttamente subito ah ah il culo nooo 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 ma dai ma non è giusto così però cazzo cioè ho aspettato un sacco cioè va immediatamente sotto non capisco ma che merda ma cioè non te neanche toccati i piedi effettivamente l'acqua non ha senso nooo sto rompendo con i piedi nooo e poi c'è ma no dai questo vuole essere così la fine cos'è questo non lo so ma l'ho preso ah no ero ma la fine cazzo ho finito a bit saving conquest che devo fare però non lo so quante ne vogliamo due in romano no tre tre che cazzo due 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 salso ah ah non può mangiare quella roba lì ah ok non gli ha fatto male ah questo gioca davanti dai non mi ha patito dobbiamo usarle cosa questa perchè poi secondo me è così ora la raddoppia magari ah due per due ah ecco ah ecco che palle il gioco di merda ma non tu hai già in vantaggio non puoi fare più niente perchè non si blocca e basta beh il colma se mi fa perdere una vita dopo questa se il mio blocco è venuto come sei nato ah ho vinto ma sai che forse ho vinto abbiamo vinto noi perchè ho detto ah ho finito le carte ah scimola ah volca troia digio che cadono con le merde non c'è in questo gioco no 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 sss altro che ghost and go questo è un tour di cazzo e la metà basta guarda si scivola anche sopra le piattaforme porto addio come dei peggiori livelli di super mario ed è il livello 2 ma ma vaffan sei ancora scioccato per il momento comunque esagerato cazzo no mamma 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 occhio uccidilo ora no non volevo saltarli in testa volevo solo schivarlo la scivola che pirla madonna no minchia prendi la tecnica vero il jutsu dall'interno del da pergamene vero fermo ora allora qui va in culo porco dio oh aaaah e non c'è il gioco della minchia oh cristo non è mi è handicappato su una skateboard mi è mangiato che fu un colpo di uscire voilà si confonde un po' con la sfonda si infatti l'ho visto è un po' tardi madonna nooo non ci posso capire è troppo difficile è troppo difficile e allora minchia qua zayton contest proprio da mongopletici questa roba ah ma vedi se lui finisce le carte comunque perde che cazzo di sensore nooo perchè vuole abbassarmi ma vaffanculo ma vaffanculo ma vaffanculo perchè poi che cazzo cambia tra una team caspicella tra niente però ora sembra un cazzo proprio cioè se il nemico vola magari con questo non ammazzi non lo so non mi sa dissi ma non sarà solo quello donna ci ha ruttigliato lì marco dio dai adesso cosa gli fa così? perchè sei speso molto meno mana rispetto a prima? perchè magari il ghiaccio consuma di più prima con il ghiaccio eh no vabbè avevi il ghiaccio? si si avevo il ghiaccio prima mi trovo infarti vestibolari a ogni passo madonna il fatto che non ci siano salvataggi è troppo brutale ma è morto merda come prima a te vaffanculo ma nooo nooo mi tro我跟你講ica non è possibile non ha senso muo co MORKO perchè non puō usare lo lio 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 speciali ma perchèое? ma dai ho toccato una piuma del culo ed è morto non è possibile da sotto lo skate poff se senti se senti uno scoppia forte il mio coglione che non ce l'ha fatta il il ci sono in totale quattro ogni tre livelli ogni livello dispari ogni livello dispari 1,3 5,7,9 11,3,7 e palle e palle e palle 2 2 3 adesso c'è un altro scoppia no ma vaffanculo si cambia il colore ne fumo di sono tutto marrone ma ma ti ammazzare la goccia d'acqua dai sicuro ci devono il pesce ahhh figlio di puttana questa volta però è diverso c'è 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 la merda il top e non è una secchiella più di merda cioè non c'è una goccia che era già atterrata lo schizzo E' una goccia d'acqua! Che cazzo deve ammazzarti? E' una goccia d'acqua! No, sono piccole bottiglie. Sempre contenenti merda però. Guarda, ho avuto il diarrea e mi piaceva anche da sto gioco. Sì. Ma ancora? Che palle! Sei andato fin qua? Devo pure beccarmi sta merda adesso. Questo è il peggior mini gioco mai inventato, penso. Questo cazzo! Questo! Nella pizza, sì. No, non mi dire. Che p... Ma vaffanculo! Proprio... E' il peggior gioco di merda mi ha inventato tutto questo! E' diverso! E' il gioco di merda! Devi merda per farlo sotto, perché sotto ci sono i bonus e contato. Cioè, tu pensa se noi andiamo avanti semmo è tipo, poi guardiamo una... Un pizza contest! Cioè, non è che... che guadagni qualcosa se vinci. e ti incula se perdi si è come solo puntivo devi sudarteli anche questi punti un continuo in più ah ma allora a dire vuoi prendere la bacca ah devi seguirla via dai ecco facculo dio canarino madonna madonna vuoi saltare per me è importante questo è super male questo ma nooo con l'esplosione nooo sei infatti no no basta se non ci fosse la pizza contest è ancora ancora ma la pizza contest mi fa mi fa veramente pensar mi fa veramente il cazzato over